Quindi torno a casa dall'Olanda, che Dress c'è stato, mi pare, una settimana, credo. Non mi ricordo, comunque Dress è stato un po' di tempo. Torno e avevo i Dredd, i Dredd, e il piercing al naso. Arrivo a casa, suono, mio padre apre la porta, mi vede e fa guarda, non c'ho spicci. Ripassa più tardi, di quale sto io? Appena mi vede mi fa, tu, tu non lavorerai mai più, tu non ti rendi conto che cosa hai fatto, col quel piercing al naso e con i capelli, in Italia non troverai mai lavoro, mai, di qualche senza capelli che sto piercing in Italia, cioè, mi stanno affritto tutti i lavori a me. Quindi la crisi, e mio nonno, 1906, spettacolare, la saggezza del vecchio, ha detto, ma se mi compro una calamità, te l'attacca al naso, te porto lo cazzo, mi pare a me, minore.